Gianni Siri, vicepresidente del Mele, una bella vittoria sul campo di Caderissi, Vida Morale. Sì, Morale, fiducia per il prossimo del campionato, una gran vittoria, merito va ai ragazzi che si stanno impegnando tutte le sere all'allenamento e sono sempre in tanti, mister quindi ha difficoltà a lasciare a casa dei ragazzi, però oggi è una vittoria importante contro una squadra forte, è uno dei candidati al campionato, quindi ci siamo anche noi per il playoff. Ecco, questo Mele dove vuole arrivare? A categoria superiore? Il playoff sarebbe già un risultato rispetto allo scorso, purtroppo abbiamo rischiato di retrocedere, quindi minimo i playoff, poi quello che viene, viene e vedremo.